come va ragazzi benvenuti sul mio canale sono il gabriel oggi siamo con la parte 2 di the last of us parte 2 procediamo ciao Sì. Sì. Ehi. Ehi. Cosa stavi sognando? Ho detto qualcosa. No, però... digregnavi i denti. Dove sei stato? Prendi lo zaino, ti mostro una cosa. Cosa? Fidati. Forza, di qua. Ma chi è statizia, ragazzi? Ma c'è... Siamo partiti con Ellie. Un po' di Joel. Adesso finiamo nei panni di statizia. E' più caldo. No. No, non possiamo. Non possiamo. Non puoi dirmelo e basta. Questa deve vederla. Va bene, stai calmo. Mamma mia. Ma iniziamo a correre perché mi giro il tuo cazzo, eh. Se arrivo lì, non c'è niente. Ti spiezza in due. Più ci spingiamo a sud, più migliora. Vuoi proseguire? Pensi di scendere fino in Messico? Ci ho pensato. Messico. C'è anche la città di me. Sì. Dubito possa reggere le sue storie. Sì, no, forse. Ci vuole? Per arrivare in Messico? Quello. Hai fatto tutto al buio. Sì. Forza. Vabbè, seguiamo la pista, dai. Ma dove cazzo? Ma da dove è spuntato fuori? Ah, c'è la scorciatronia. Oggi sarà dura affrontare il viaggio. Non è lontano. Bene. Nel sta bene. Sembra fuori di sede qualche giorno. Chi? Se la caverà. Smittila di fare lo strano, non mi piace. Non sono strano. La salta. Eh. Stai lasciando con me? Cosa? No. Ti piacerebbe? Ah. Avrei già dato. Grazie. Hai. Non siamo tutti aggraziati come te. Chiaro. Ma cosa? Te la caverà. Ma porca vacca. Andiamo. Ehi. Guarda me. Abby. No, non guardare giù. Ah. Dai. Proviamoci tizio sconosciuto. Ora si chiama Abby. E lui non lo so. Perché non l'ho sentito. Ce so, ce so. Ci siamo. Sì, è qui. Porca merda. È una città, cazzo. Già. L'hai detto a qualcuno? Volevo fossi la prima. Uomini armati sono andati a un avamposto, laggiù. ci sono altre postazioni nel mezzo. Hanno elettricità, armi. Sono davvero in tanti. Troveremo un modo. l'altro. Ammesso sia qui. Come lo troviamo? Possiamo catturare una pattuglia, farla parlare, poi... non lo so, gli tendiamo una trappola. Già, ok. Sono certo che vuoteranno subito il sacco, sì. Li convinceremo. Ma ti ascolti? Ok, il tuo piano? Che cosa ti succede? Ma lei è incinta. Ah. Ok. Ma non è solo questo. Dovrei congratularmi. Quando vedranno la città, si tireranno indietro. Li convinceremo. Giusto. Cazzo, sapevo di non potermi fidare. Abby. Voglio quello che vuoi tu. Ma non ad ogni costo. E... Fermo. Ti aspetto alla balta. Mi sembra di aver capito che stiamo cercando una persona uomo. Resumo, Joel. O... Tommy. Io non ho bisogno di nessuno. Io non ho bisogno di nessuno. beh, dipende mo? ti ammazzi? di là su però veramente stavo cercando di capire se questa tizia l'avevo già vista ovviamente nel capitolo number one però no cioè, non non mi è sembrato di ma che cazzo non mi è sembrato di averla mai vista ah, deve andare per forza qua su, va bene allora l'avevo capito, banana solo che si attacca oh, bravo andiamo a vedere l'avamposto, vediamo chi c'è per interrogare qualcuno qua c'è qualcosa? tesori? niente? lanciate di quattro? niente? c'è niente tremuto addirittura call of duty si striscia comunque qua ci sarà sicuramente una parte stealth dove devo far fuori gli amici probabilmente eh, quindi? tu ti chiempi di steroidi? scherzo ragazzi oh shit bro oh shit bro eh, cos'è che c'ha? sei vivo questo è vivo sì quello sta vivo sono parecchi oh cazzo dai che spunto fuori qualcuno dai 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 l'avevo detto ma è sveglia questa devo tenere premuto? sì devo tenere premuto devo tenere premuto perché non si abbassa più? ma porca vacca sto premendo eh ah dai che la neve è soffice dai cazzo cazzo e lui uno schiva mischia ok devo ancora imparare un po' i tasti dai che adesso ne cadono altri 3-4 no? niente? vabbè andiamo oh oh ops ma almeno si capisce quando ti danno la botta provano oh non la danno subito almeno è intuibile questa cosa vabbè vabbè ciao 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 non vedo un cazzo spaggia kit medico la spalla eh se non sono scemo non me lo fa mettere vabbè va bene va bene ah questo lo fai è bravo adesso si ok fortuna che lei faceva male alla spalla allora madonna santa ma dove devo andare? eh cos'è che devo fare? ok ok ma non me la muovere un po' mi muove la visuale l'automira mannaggia ci siamo quasi ci siamo quasi ma no che striscio ma che cazzo te ne frega ma neanche l'ho visto sinceramente la luce ah tipo ti lo ho due sì uno uno taci non può essere da solo spezza collo vai più o meno che fai a far fuori uno zombie a pugni ma me lo spieghi ok non c'è nessuno nei paraggi no ma sta cosa non me la spiego cioè sono zombie allora ti basta darti un morso cioè vabbè va bene scavalchiamo non si può come non si può ah ecco farlo di frame l'ho visto c'è sono due di qua uno posso fare fuori stealth però l'altro mi sembra rivolto verso di me quindi ok non c'è più bene perfetto ok non vedo mattoni da lanciare peccato mi stanno andando cazzo arriva quell'altro no no e tre e tre che sono finiti sembrano essere finiti devo portare sfiga a ormi di cavalli dov'è la pattuglia va bene ragazzi noi ci vediamo al prossimo episodio della stofaz parte 2 episodio 2 lasciate un like commentate condividete ciao ragazzi ciao